Buona serata a tutto il pubblico di Rossini TV, questo è uno spazio elettorale a pagamento dedicato ad Andrea Biancani, benvenuto. Grazie a voi, buona serata a tutti. Che è candidato appunto al Consiglio regionale alle prossime elezioni che saranno il 20 e 21 settembre. Allora Biancani innanzitutto un bilancio sui cinque anni che lei ha già fatto in regione. Beh, devo dire innanzitutto che sono stati cinque anni molto impegnativi, cinque anni dove ho messo prima di tutto la disponibilità. Sono stato un consigliere molto presente sul territorio, ho cercato di ascoltare i cittadini, di occuparmi delle varie esigenze che mi venivano sottoposte e di portarle a livello regionale. Devo dire che sono stato anche l'unico consigliere regionale che ha mantenuto aperto un ufficio tutti i venerdì mattina, io ho sempre ricevuto, sia le varie realtà amministrazioni, comuni, ma anche cittadini singoli, che mi chiedevano un appuntamento. Ho sempre ritenuto che è importante che chi fa politica deve stare in mezzo alla gente, deve essere capace di ascoltare, ma deve anche poi richiamare le persone per dirgli i problemi che ci sono stati sottoposti, se sono stati risolti o come è possibile risolverli. Ho sempre ritenuto che la politica deve essere fatta per il bene comune, cioè per migliorare la qualità della vita di tutti i nostri cittadini. Quali sono le tematiche che vuole portare avanti? Tanti sono i temi affrontati in questi cinque anni, cosa bisogna fare ancora? In questi cinque anni sono stati innanzitutto Presidente della Commissione Ambiente, governo del territorio, che comprende le infrastrutture, comprende la urbanistica, l'ambiente, quindi devo dire che sono stati comunque cinque anni molto impegnativi. Noi abbiamo fatto tanto come Regione Marche, devo dire che una Regione così vicina al territorio secondo me non c'è mai stata. Abbiamo messo appunto come nostra missione principale, cioè quella di essere presenti sul territorio, anche perché ricordo che la Regione ha cambiato volto, ha cambiato faccia negli ultimi cinque anni, assumendo tantissime delle competenze che erano delle province. Questo ci ha portato ad essere, passare da un ente che era un ente di programmazione a un ente che si è trovato a dover gestire anche le tante risorse che avevamo a disposizione, da una parte i fondi comunitari, da una parte le varie risorse che ci vengono assegnate dallo Stato, cercando di distribuire queste risorse nel territorio appunto per rispondere alle esigenze che ci venivano sottoposte. Altre tematiche, altri punti che bisognerà toccare? Beh, io devo dire che in questi cinque anni, oltre alle tematiche legate alla sostenibilità, legate all'ambiente, legate comunque alle infrastrutture, dalla banda ultra larga, alle strade, e ricordo importantissimo l'accordo che abbiamo fatto con il trasferimento delle strade Exanas a Lanas. Mi sono occupato molto anche di turismo, di cultura, di agricoltura, ma anche soprattutto di servizi legati alla persona, quindi del sociale. Anche se non era una mia competenza diretta, come a livello di sensibilità personale, sono sempre stato vicino a questo tipo di mondo e quindi ho cercato anche di raccogliere quelle che erano le esigenze, cercando di rispondere soprattutto di riuscire anche a mettere risorse per i servizi legati alla persona. Lei supporta Mangialardi del Partito Democratico, Mangialardi di Senigallia, anche lui vicino un po' al nostro territorio, insomma Ancona è al centro della regione Marche, quanto è importante avere in consiglio regionale esponenti che rappresentino anche la nostra provincia? Sì, è molto importante. L'altra volta avevamo comunque un presidente che era della provincia di Pesurubino, oggi il candidato presidente del centro-sinistra della provincia di Ancona è importante quindi dare forza ai candidati locali. Io appunto ovviamente spero di riuscire a fare un buon risultato perché all'interno di questa giunta regionale è importante comunque che ci sia anche un rappresentante del nostro territorio, un rappresentante che soprattutto sappia, abbia un'esperienza perché la politica, l'attività politica amministrativa non si inventa dalla sera alla mattina. Io ritengo che sia come dire come qualsiasi tipo di attività, occorre esperienza e occorre conoscere innanzitutto il territorio e poi conoscere quelle che sono le modalità per riuscire a risolvere che i problemi del territorio ha. Io in questi anni ho fatto un grandissimo lavoro, ho fatto una grandissima esperienza, questa esperienza vorrei continuare a mettere a disposizione di tutti i nostri cittadini. Insomma è candidato e comunque è di Pesaro e porterà avanti anche le nostre battaglie. Quali sono le cose proprio che bisogna portare avanti, su cui bisogna lavorare in questo caso nella provincia di Pesaro Urbino? Beh sì, come hai detto il collegio è innanzitutto un collegio provinciale, quindi per potermi votare è possibile votarmi da qualsiasi comune della nostra provincia. Dopodiché ognuno di noi ha un territorio di riferimento, io in qualche modo il riferimento principale è quello della vallata del Foglia, quindi Pesaro, Capizia, Gradara, ma anche tutti i comuni lungo la vallata del Foglia. Quelle che sono le priorità secondo me innanzitutto bisogna proseguire a investire sulle infrastrutture. Il nostro territorio è un territorio che ha subito veramente dei danni anche dal punto di vista economico, sia per quanto riguarda le imprese, per quanto riguarda il turismo, per quanto riguarda appunto la capacità di essere visitati anche, perché ovviamente abbiamo delle strade che non sono collegate con quelle che sono le infrastrutture principali che abbiamo nel nostro territorio, cioè un collegamento tra la costa adriatica e la costa tirrenica nel nostro territorio è comunque molto complicato. Quindi dobbiamo continuare a puntare sul fatto che occorrono investimenti importantissimi per le infrastrutture stradali. L'altra priorità secondo me è cercare di portare avanti e di velocizzare il progetto Bando Ultralarga, anche questo un'infrastruttura digitale che però per poter consentire alle imprese, ma anche ai cittadini, soprattutto anche dopo il lockdown, dove anche molti ragazzi sono stati costretti a dover stare a casa per poter seguire le lezioni, avere una rete veloce è sicuramente molto importante. Quindi continuare a investire sulla Bando Ultralarga sia per il mondo dell'impresa, ma per qualsiasi tipo di cittadino, ma anche per quanto riguarda il turismo e la cultura. L'altra cosa a cui tengo in particolar modo è continuare a puntare su uno sviluppo che sia sempre più sostenibile, nel senso che il modello di sviluppo che noi dobbiamo prendere come esempio è un modello di sviluppo nuovo che deve puntare sull'effacentamento energetico, che deve puntare anche sulla qualità dei nostri fabbricati che abbiamo nel nostro territorio, mettere in sicurezza dal punto di vista sismico, ed è da questo proposito abbiamo fatto come Regione Marche, insieme al Ministero, insieme allo Stato, investimenti importantissimi per quanto riguarda la messa in sicurezza delle scuole. L'altra priorità può essere sicuramente quello di continuare a garantire dei servizi alla persona, soprattutto per i più deboli. Non ci dobbiamo mai dimenticare che i più deboli devono avere la priorità. Noi ci lamentiamo, molti di noi ci lamentano perché magari possono avere dei problemi di qualsiasi tipo, però ricordo che ci sono persone, ci sono famiglie che vivono a stretto contatto con persone che hanno anche un disagio sociale o comunque una disabilità che richiede un'attenzione da parte del pubblico. Penso che questa debba essere sicuramente una delle nostre priorità. Andiamo adesso a parlare delle strade. In questi cinque anni è stato fatto un grosso lavoro per quanto riguarda appunto le nostre strade che sono importanti e lei se ne è occupato in prima persona. Beh, devo dire che il tema delle strade me ne sono occupato in maniera veramente tantissimo. L'obiettivo era quello di riuscire a mettere in sicurezza le tantissime strade che abbiamo nel nostro territorio che a causa delle risorse ridotte che sono state date dalle province non riuscivano più a fare la manutenzione. Noi siamo stati tra le prime regioni d'Italia a riuscire a trasferire le strade provinciali ex ANAS a farle tornare allo Stato. Parliamo nella provincia di Pesurbino di circa 200 km di strade. Tra le strade principali ricordo la strada Fogliense, la strada che collega Morciola con Lunano, ricordo la Urbinate cioè tra Morciola e Urbino, la Cesanense cioè tra Marotta, Pergola e Cagli, la Metaurense tra Fermignano e Urbino, la Pedemontana, Cagli, Sant'Angelo e Invado, la Pechiese e in questi anni veramente sono stati investiti tantissimi milioni di euro grazie a questo accordo che abbiamo raggiunto con ANAS. Per raccontare cosa sta succedendo, in questi giorni verranno investiti 5 milioni di euro per la Fogliense, cioè la strada che parte da Montecchio, sale per Rio Salso, Borgo Massano, per poi arrivare a Casinina, arrivare a Sassocorvaro, fino a Lunano e sotto gli occhi di tutti che questa strada sta cambiando veramente molto. Questa strada aveva bisogno di investimenti importanti e grazie a questo accordo quest'anno veramente verrà in qualche modo anche messa in sicurezza una gran parte. Oltre a questa anche la strada per andare a Urbino, chiunque di voi va oggi a Urbino, si accorge che ci sono tantissimi tratti di strada che sono stati rinnovati ed asfaltati e ovviamente questo in tutte le altre strade che avevo menzionato. La Pechiese, scusami, ma la Pechiese è una strada che veramente aveva bisogno, cioè la strada che collega a Pecchio e Piobbico, quindi passando anche per Acqualagna. Anche questo sarà un investimento che porterà a rinnovarla quasi completamente. Questo è veramente un tema di cui vado molto orgoglioso perché insieme al Presidente Celescioli me ne sono occupato direttamente di chiudere questo accordo tra la Regione, la Provincia e il Ministero e sta dando veramente dei buoni frutti. Noi avevamo un problema delle strade principali di messa in sicurezza molto importante e grazie a questo accordo veramente stiamo facendo tantissimi lavori in tutto il territorio provinciale. E allora Andrea Biancani perché vuole continuare a portare avanti questo lavoro per i prossimi cinque anni? Beh io devo dire che in questi cinque anni ho fatto un grandissimo lavoro e me lo dico da solo perché come dire mi viene anche riconosciuto. Siamo in campagna elettorale, sto facendo un giro nei territori, sto affrontando questa campagna elettorale veramente in maniera diretta con il cittadino, cioè non ho paura di incontrare i cittadini anche perché penso di aver dato molto alla comunità. Voglio continuare a dare molto altrettanto, io dico sempre che sono innamorato, perso di quello che faccio. Chi fa l'attività politica e amministrativa lo può fare in un modo o lo può fare in un altro. Io lo faccio dando tutto me stesso, cioè mettendomi veramente a disposizione. In questi cinque anni abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, ci sono tantissime cose come ti dicevo che occorre portare avanti e voglio continuare a portarle avanti. Ad esempio uno dei temi sicuramente importanti e voglio trattarlo anche se è il tema sanitario e soprattutto i nostri territori, non solamente sulla costa ma anche il nostro entroterra in questi cinque anni ha visto andare a ridurre quelli che erano purtroppo i servizi che erano a disposizione dei cittadini, ma oltre a ridurre i servizi si è avuto difficoltà ad accedere a questi servizi. Quindi noi secondo me dobbiamo cominciare a cambiare ruota da questo punto di vista. Abbiamo fatto tanto ma ancora fare sicuramente di più è meglio, andando ad implementare quelli che sono i servizi che riusciamo a dare direttamente sul territorio e implementare i servizi a domicilio, ma soprattutto consentire alle persone di poter accedere in maniera semplice e in maniera soprattutto veloce ai servizi che il sistema sanitario riesce a mettere in campo. E questo come si può fare a livello organizzativo di ospedali eccetera? Beh, noi bisogna dire la verità, riuscire a pensare di riaprire tutti gli ospedali penso che sia molto difficile, ma noi dobbiamo fare in modo che nei nostri territori ci siano tutti i servizi che possono essere come dire servizi alla persona che le persone possono, alle quali le persone possono accedere. Quindi rafforzare le attuali strutture che ci sono, anche le ex strutture ospedaliere, garantendo sicuramente un servizio anche a 24 di conto soccorso, di emergenza, quella presente nel medico, ma garantendo anche tutta una serie di servizi di laboratorio, di analisi e di diagnostica che le persone di cui le persone hanno sicuramente bisogno e garantire ovviamente un soccorso immediato. Le persone devono sentirsi tranquille, sicure, cioè che se si sentono male c'è qualcuno che in tempi rapidi riesce a prenderli anche a casa e a portarli anche però in strutture sanitarie che siano in grado di poter risolvere i problemi che le persone possono avere. E allora un appello al pubblico di Rossini TV, il pubblico che sta guardando, che appunto il 20 e il 21 settembre andrà a votare, perché è molto importante andare a votare e soprattutto scegliere al meglio i candidati che andranno a rappresentarci poi in regione, perché sono ruoli davvero molto molto importanti. Allora un appello sincero a tutto il suo pubblico e a tutto il pubblico di Rossini TV, perché votare Andrea Biancani? Beh, innanzitutto il mio slogan è Biancani fa per te, nel senso che innanzitutto in questo slogan c'è il voler fare, ma non fare per me, ma fare per voi, cioè fare per la comunità e fare insieme. Io invito a invitarmi perché ho già dimostrato di essere, come dire, una persona in grado di svolgere il ruolo che fa, ma soprattutto bisogna votare sapendo come votare. Vi voglio dire a tutti i telespettatori che per votare occorre scrivere il cognome, per votarmi va scritta la preferenza. Noi siamo un territorio che dà poca preferenza, nel senso che ci sono altre parti della regione dove magari i candidati prendono molto più preferenze, perché è un aspetto anche di tipo culturale, di formazione mentale. Quindi io invito tutti a scrivere il candidato, cioè scrivere il cognome Biancani, a fianco al simbolo del Partito Democratico. Se non si scrive il cognome non si sceglie la persona da cui farsi rappresentare. Quindi è molto importante essere precisi anche sul nome. Perché nelle altre parti della regione? Ma guarda, se quel tema i dati lo dicono, ci sono altre parti, ma a livello italiano, ci sono addirittura regioni italiane dove i candidati prendono due, tre, quattro volte le preferenze che prendiamo noi, perché i cittadini sono abituati a scrivere e hanno come forma mentale la voglia di scegliere da chi farsi rappresentare. Da noi questa cosa viene purtroppo un po' sottovalutata, le persone mettono generalmente la croce sul simbolo senza andare a definire, a scegliere il proprio candidato. Invece l'appello che voglio lanciare è quello di assumersi una responsabilità, perché questa è una possibilità, cioè non solo di mettere la croce sul simbolo, ma anche di scegliere i candidati da cui farsi rappresentare. Grazie mille allora ad Andrea Biancani. Grazie a voi e mi raccomando andate a votare e scrivete Biancani a fianco al simbolo del PD. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.